venite a trovarci nel nostro showroom Tirregna Auto, la piattaforma dell'auto La Cavese vuole fare bottino pieno nelle ultime due partite del campionato quindi l'obiettivo sarebbe giungere a 78 punti senza avere la certezza di vincere direttamente la Serie D ma l'importante è incrementare la media punti di qui fino alla fine della stagione regolare poi ci saranno probabilmente i playoff e anche lì bisognerebbe fare tutto per riuscire a entrare nella prima graduatoria e ambire al ripescaggio Domenica i meteliani giocheranno a Manfredonia allo stadio Miramare un impegno sulla carta molto facile e poi la domenica successiva arriverà la chiusura in casa con la frattese gara meno semplice perché i nero stellati sono in forma ma una gara che comunque vedrebbe i bianco-blu favoriti La Cavese vuole andare in Serie C e comunque il comune di Cavali Tirreni si trova a dover affrontare la questione stadio Simonetta Lamberti con l'obiettivo a lungo termine delle universi AD che si giocheranno l'anno prossimo e nel contempo dovrebbe ottemperare alle prescrizioni richieste dalla Lega Pro per adeguare lo stadio alla Serie C possibilmente prima dell'inizio del nuovo campionato dove la Cavese vorrebbe provare ad accedere già per il mese di agosto anche tramite ripescaggio e il sindaco Vincenzo Servalli conferma comunque ai microfoni di Nunzio Siani per gonfia la rete un aspetto che la Cavese ha la grande volontà di andare in C Sì, siamo in un momento molto delicato perché contemporaneamente dobbiamo fare più cose le dobbiamo fare bene e lo dobbiamo far incastrare in maniera tale che tutti gli obiettivi che noi ci siamo dati per quanto riguarda l'amministrazione comunale di dare finalmente a Cava dei Dirreni uno stadio completo, perfetto con tutte le autorizzazioni e tutti i criteri per giocare da qui ai prossimi 20 anni in una condizione di tranquillità e allo stesso tempo dobbiamo tener conto delle esigenze della tifoseria quindi nostre diciamo così, della tifoseria, della società che vuole e mi è stato confermato questo e sono molto contento, vuole puntare il ripescaggio E Massimiliano Santoriello, amministratore della Cavese nel corso della stessa trasmissione andata in onda ieri sera in diretta ha confermato la propria determinazione a far sì che la società che rappresenta possa salire anche attraverso un ripescaggio È stato un ottimo incontro e noi domani sia con il nostro suddietario che è molto esperto della questione, sia con i nostri tecnici inseriamo già a metterci in contatto con i tecnici del comune per fare tutti i passaggi, abbiamo una roadmap ben precisa che ogni giorno controlliamo, controlliamo e verificiamo e quindi niente, come sempre siamo punti quindi ad oggi non vedo grossi difficoltà lavoro da fare sì, ci faremo e questo è, fermo restando che il campo deve ancora dare il suo verbetto e così come la determinazione delle persone che abbiamo in studio il nostro team manager, il nostro capitano siamo decisi, siamo determinati deve ancora finire di parlare il campo e quindi ci faremo